Ciao a tutti, dopo un video un po' più cacerone su WRC che potete vedere cliccando qui non lo so, metterò il link da qualche parte o nella descrizione o nel video vero e proprio vorrei parlarvi un po' più analiticamente di questa preview, di questa beta del nuovo titolo della Codemasters WRC che ha preso la licenza ufficiale del Mondiale Rally e ce l'ha spiaccicata sul motore di Dirt Rally 2 alla fine ripeto comunque che è una preview del gioco e non il prodotto finale però almeno ci si può già fare un'idea di massima su come sarà questo titolo rubo giusto due secondi per ricordare a chiunque segue i video di iscriversi al canale perché ci sono ancora molti che guardano i video ma non sono iscritti il bottone è qui o qua sotto al video, premetelo che fate un piacere a me e forse anche a voi spero che dire, mi ha fatto davvero davvero una bella impressione diciamo che Yamanti, chi ha amato Dirt Rally 2 deve assolutamente prendere questo titolo perché risolve tutto quello, anzi tutti quelli che erano i problemi principali di Dirt Rally 2 che fondamentalmente erano la carenza di contenuti ci sono molte più macchine in aggiunta a quelle che già esistevano su Dirt Rally 2 non mi pare che ci siano macchine che mancano da Dirt Rally 2 però potrei sbagliarmi, non so, non ce l'ho vista davanti a me però scrollando bene o male ho visto quello che vedevo già in Dirt Rally 2 più molte altre vetture per esempio mi è venuto un coccolone quando ho rivisto la Renault Megane che giocavo ai tempi del primo Colin McRae bellissimo e questo ampliamento di contenuti non si limita ovviamente alle vetture ma anche agli stage e ai rally disponibili che sono già molti di più rispetto a quelli diciamo anche carenti che c'erano in Dirt Rally 2 e poi c'è più una varietà perché i rally sono di più e gli stage sono molto più lunghi per esempio ci sono degli stage che vanno oltre la ventina di minuti c'è 36 km, una roba indecorosa certo non si arriva mai ai livelli di un Richard Burns rally moddato dove là praticamente la scelta degli stage è infinita ed è raro che uno deve proprio memorizzarsi e può memorizzarsi gli stage a memoria come anche su questo titolo perché il barbatrucco che hanno creato è che praticamente prendono uno stage enorme che è quello là gigante quello là più lungo di solito oltre i 20 o 30 km lo spezzettano e fanno fare diversi altri stage appunto spezzettandolo e farlo andare al contrario con delle piccole variazioni a volte questo è un altro piccolo trucchetto che hanno utilizzato per diminuire il senso di déjà vu durante i vari rally le aggiunte non si limitano anche ad un punto di vista contenutistico ma anche da un punto di vista di modalità per esempio mi ricordo che in Dirt Rally 2 c'era una sezione dedicata a Colin McRae tu dovevi fare delle mini missioni dedicate alle imprese di Colin McRae questa cosa è stata riportata anche questa volta da un punto di vista più ampio quindi diciamo devi fare dei certi obiettivi chiamati moments qua o momenti in italiano non so tengo il gioco in inglese quindi non rompete le valle e comunque ci sono questi piccoli obiettivi e tu devi cercare di fare uno stage fondamentalmente con qualche difficoltà oppure cercando di sorpassare di fare lo stage in un certo tempo oppure cercare di prendere quanti meno danni possibili c'è poi finalmente una modalità carriera degna di questo nome con anche la simpatica aggiunta del fatto che ti puoi creare la tua vettura e non solo utilizzare una delle vetture già esistenti nel gioco all'inizio l'impatto di crearti la propria vettura è simpatico anche se però vedo stranamente non tantissime opzioni di personalizzazione cioè la personalizzazione c'è ed è figa però le opzioni sono pochine nonostante il fatto che comunque puoi fartela pezzo pezzo come già detto nel video di prima io spero che amplieranno il numero di scelte con una roba tipo il podium pass di F1 che si è un po' a pagamento diciamo così è un po' sui crediti di gioco ma almeno ti dà un po' di varietà nella personalizzazione della vettura invece delle 4-5 opzioni disponibili da un punto di vista di appunto componenti che hai all'inizio per chi non è studiato nei rally c'è anche una sezione proprio di rally school dove ci sono delle diverse lezioni in cui tu impari alcune tecniche tra cui la frenata col piede sinistro oppure che ne so il fatto di sovrasterzare di potenza oppure sovrasterzare alzando il piede insomma ci sono alcune cose che anche per i non studiati per i non abbezzi e alla guida realistica potrebbe dare una mano a essere veicolati in questo tipo di disciplina tornando agli stage sì, sto andando un po' a braccio quindi a volte salterò a destra e a sinistra come un deficiente però seguitemi tornando agli stage a parte il fatto che puoi scegliere il clima col quale affrontare ogni singolo stage si può anche decidere la stagione il che è importante per alcuni rally tipo quello di Monte Carlo che ho fatto vedere prima dove una tappa diventa diciamo non dico completamente diversa però comunque bisogna affrontarla in un modo un po' più accorto nel caso sia inverno e quindi ci sia la possibilità di ghiaccio a terra purtroppo però rispetto a quello che poteva essere Dirt Rally 2 dove c'erano proprio nella stessa sezione di pista c'erano parti non ghiacciate e parti ghiacciate ed era fichissimo perché stavi sempre caduto addosso che tu potevi avere il grip a sinistra ma non a destra della carreggiata in questo caso ho notato che era più un acceso o spento diciamo così quindi o c'erano parti ghiacciate e quindi scivolavi dappertutto oppure parti non ghiacciate dove avevi grip dappertutto da un punto di vista di guida non sono riuscito ancora a carpire totalmente il modello di guida se riesce a essere simulativo o meno in realtà nessuno potrebbe dirlo perché nessuno gira con una macchina da rally continuamente però da quello che ho esperienziato chi comunque viene da Dirt Rally 2 si ritroverà assolutamente a suo agio non credo che sia totalmente identico perché senti che non stai giocando a Dirt Rally 2 quindi non è proprio un copia e incolla non saprei dirvi onestamente se è meglio o peggio la macchina fa quello che una macchina deve fare fondamentalmente l'unico appunto che forse ho è che per esempio hanno un po' esagerato con con l'effetto di sovrasterzo per le vetture che sono comunque col motore col motore posteriore perché davvero l'effetto del sovrasterzo è un po' troppo soprattutto incurvelente e quasi irritante quello che non mi è piaciuto però è la grafica nel senso che per raggiungere al contesto questo gioco viene dal Lego Engine lo stesso che viene utilizzato per i giochi di Formula 1 lo hanno portato sull'Unreal Engine quindi comunque c'è un lavoro di riadattamento che non lo so a volte si vede che sembra non essere fatto per l'Unreal Engine e comunque ci sono sai i classici artefatti dell'Unreal Engine quindi pop-up a cacchio di cane un po' di ghosting ogni tanto queste robe qua così per avere un punto di riferimento tutto quello che ho registrato è a dettagli alti e non ultra quindi mettete in conto questa cosa qui per analizzare la grafica presa dal mio gameplay altre cose che mi hanno fatto un po' stizzire è che praticamente la visuale dall'abitacolo quella là con il volante visibile è praticamente ingiocabile perché c'è il volante a schermo che va molto più lento rispetto ai movimenti del giocatore e ti confonde praticamente e poi c'è questa cosa che se vuoi guidare le vetture manualmente sai col cambio ad H nelle vetture col cambio ad H e col cambio sequenziale con le vetture a cambio sequenziale devi andare ogni volta nell'opzione quando cambi la vettura cioè per esempio tecnicamente puoi mettere l'opzione manuale con cambio ad H pure per le vetture RC moderne che non c'è se cacchio insomma che gli costava a questi mettere l'opzione decide la macchina se una macchina è sequenziale è sequenziale che cacchio mi dai l'opzione per il cambio ad H non ha senso per quanto mi piaccia questo gioco io devo ammettere che secondo me per i puristi ancora bisogna rivolgersi a Richard Branzerelli questo si vede soprattutto in due cose particolari la prima è che pure quando metti i danni in versione realistica o comunque simulativa devi praticamente solamente sbattere ad alta velocità su un muro o su un palo o su un albero per far uscire la scritta game over e poi anche piccoli sobbalzi che in Richard Branzerelli provocano comunque una storsellata dello sterzo qua ne esci non dico intatto ma quasi un'altra cosa degli stage si lo so sto tornando degli stage la terza volta però era importante rimarcarlo che purtroppo però tutte queste variazioni di clima non sono applicate in tutti i rally per esempio a me sarebbe piaciuto fare una cosa proprio fuori di testa tipo far nevicare in Kenya oppure sciogliere tutta la neve nel rally di Svezia però purtroppo queste cose estreme non si possono fare quindi in soldoni per ora ragazzi per gli appassionati di rally tanta roba tanta roba proprio spero vivamente che EA non si metta a fare un'uscita annuale di questo di questo titolo perché già comincia ad avere meno senso in Formula 1 qua avrebbe ancora meno senso anche perché le macchine sono meno male molto simili non è che cambiano tantissimo nemmeno i tracciati quindi spero vivamente che rimanga un tipo di uscita biannuale treannuale in modo tale da metterci effettivamente più ciccia ogni volta che c'è un nuovo titolo però ragazzi gli appassionati di rally devono comprarlo se siete però puristi e vi aspettate qualcosa che sostituisca Richard Burns rally questo non è per voi mi dispiace io con questa vi saluto e ci sentiamo alla prossima